Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi finalmente ci siamo! Con un giorno di ritardo rispetto a quanto era stato annunciato oggi alle 10 ci sarà la patch 10.10 con tanto di downtime dei server il che vuol dire ragazzi appunto l'introduzione di un bel po' di robe besugose mi raccomando vi aspetto in tantissimi live oggi a partire dalle 8 per vivere insieme questa nuova patch e vedere in anteprima mondiale tutti i leaks disponibili. Nel video di oggi oltre all'aggiornamento parleremo anche di un glitch che si può fare con il driftboard non riesco a pronunciare driftboard col drift così è più facile un glitch davvero divertentissimo che potrà farvi trasportare più di una persona ragazzi fino a un massimo di tre giocatori sul drift e ovviamente come ultimo argomento un altro dettaglio delle season passate che in molti stanno aspettando il cubo sembrerebbe che ci siano degli accorgimenti nella mappa che ci lasciano intendere il ritorno di kevin come tutti lo avevamo chiamato prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando ci sono pazzate di prepotenza nello shop mi raccomando iscrivetevi al canale passate anche di là raga passate anche di là a fare un salto e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima e dai è il punto chiave della domandina ieri mi avete risposto in tantissimi e anche oggi voglio farvi una domanda molto molto personale ma qual è il tuo posto preferito per atterrare dai la location che preferisci quando ti butti allora io se devo giocare in pubblica le prime city e via non ho una preferenza ma in arena sto scoprendo che un punto bellissimo è la montagna nel bioma del deserto dove ci sono i cactus messi a v con i segni dei fulmini dove ci sono anche due chest in poche parole tra palmetto paradisiaco e la discarica è veramente un'ottima location che vi consiglio di provare perché avete un sacco di mazza e un sacco di loot tutto intorno ma quindi ciancio alle bande e vado alle ciance andiamo subito subito a vedere i tweet ufficiali di fortnite loro dicevano ieri l'altro ieri a causa di un inconveniente dell'ultimo momento abbiamo deciso di posticipare l'update della patch 10.10 a data da destinarsi poi in realtà aggiornano il tweet dicendo la data da destinarsi in realtà è mercoledì quindi oggi il 14 agosto alle ore 10 per noi che siamo in europa però però non è detto che in realtà abbiano avuto veramente dei problemi è uscita una teoria interessantissima su reddit che io approvo e che vuole essere letta così oggi apex rilascerà una nuova modalità in solo quindi un nuovo solo game mod tutti pensano e anche io lo penso che happy games voglia continuare ad imporre la propria potenza dopo aver già stracciato apex in una maniera incredibile posticipando la l'update a oggi e quindi per quanto riguarda twitch dominare con numero di spettatori simultanei in base agli streamer che stanno streamando fortnite ci sta ragazzi io apprezzo questa cosa oramai vabbè apex è un gioco che secondo me non ha più di che impensirire fortnite se qualcuno provasse invece la solo mod perché ci gioca ancora magari la commenti qui sotto e mi dica come gli sembra ma andiamo avanti con il prossimo argomento il ritorno del cubo è vero che questa season che secondo me allora io sto per dirvelo ragazzi qua ve lo sto per dire secondo me potrebbe essere la mia seconda season preferita tantissime cose stanno accadendo mi piace tantissimo essere sempre attivo nella mappa nel game appaiono i rift beacon si vedono i teaser si vedono i leaks i rift nel cielo fan casino robot che sparano mi piace tantissimo questa season però tutti si stanno aspettando il ritorno del cubo in quanto parte integrante della storia del battle royale di fortnite è un elemento che in realtà ci potrebbe far intendere quasi ufficialmente che ci possa essere un ritorno è proprio la piccola struttura presente nel bioma del palmetto paradisiaco è vero che in molti pensavano fosse associata al ritorno di putrido pantano in realtà abbiamo già anche all'esterno di palmetto paradisiaco il manifesto che riannuncia l'arrivo di putrido pantano anche se in maniera non proprio diretta la cosa che ci lascia un pochettino stupiti è che la posizione di questa struttura che sicuramente vedete se passate il fiume che attraversa il bioma del deserto è esattamente uguale ad una delle rune che lasciò il cubo nella season 5 quando si mosse in giro per la mappa ve lo ricorderete sicuramente l'estate scorsa eravamo lì che guardavamo cosa cavolo c'era sotto le rune che cercavamo di decifrarle quindi davvero interessantissima anche questa teoria che potrebbe davvero essere riconducibile al ritorno di kevin magari in un futuro di questa season e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi parliamo del brutto sì perché negli update che ci saranno in questa in questo aggiornamento si parlerà e si aspetterà anche un nerf del brutto ufficialmente sappiamo che happy games ha deciso di ridurre lo spawn rate quindi ne arriveranno di meno in poche parole abbiamo anche però delle informazioni aggiuntive insieme a quelle che vi ho fatto vedere ieri che sono confermate con l'arrivo della pace quindi una sistemazione di alcuni bug il primo ragazzi e qua spero che festone stia guardando il video perché lui ogni tanto diceva ma cavolo xuder mi sparano i robot invisibili e anche a me è successo c'è un bug se un robot che abbiamo preso noi viene poi preso da un nemico senza che il robot sia distrutto sembrerebbe che diventi invisibile quindi potrebbe essere quello il problema del robot si parla anche di sistemazione dei flicker quindi anche per il comparto grafico ci saranno delle migliorie questi sono ovviamente dei bug minori che verranno sistemati poi domani ci sarà oggi ci sarà la patch notes e quindi vi farò il video e vedremo tutto insieme tutto quello ufficiale che invece verrà introdotto e chiudiamo ragazzi il video di oggi parlando appunto del drift board il glitch è un po complicato da spiegarvelo però è molto più facile se invece guardate questo spezzone di video guardate che roba qua stiamo da una streamer estera e come vedete lei ha sta utilizzando il sta sparando con il bruto stanno giocando in squad guardate guardate sotto i piedi del bruto sul drift board ci passa un suo compagno di squadra e opla e si porta via il drift anche lei rimane un attimino sconcertata qua gli parte il ghigno malefico guardalo qua e poi poi scoppia a ridere il brutto ragazzi si può spostare insieme al drift board è una cosa veramente fantastica perché vorrebbe dire che tre giocatori possono muoversi contemporaneamente in maniera molto veloce nella mappa è davvero pazzesca questa cosa la rivediamo senza fermarci partendo dall'inizio lei è tranquilla gli passa uno proprio sotto ha fatto un saltino il drift e fanno in giro così allegramente è veramente una figata io vorrei provarlo perché secondo me ci sta veramente un botto andare in giro con il bruto sopra il drift board insomma ragazzi fortnite continua a essere anche super super divertente per quanto riguarda i suoi bug le sue stranezze e tutte le cose che ci inseriscono per cercare di darci sempre un gioco migliore intanto gg per il replay con il personaggio pagato io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live con la patch 10.10 ciao